Mi voglio separare, mi voglio separare, Camilla, mi voglio separare, 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 mi voglio separare. Io non ci vado più da quelli biologici a chilometro zero, no no no, mai niente, si incazzano pure se gli chiedi che cos'è il chilometro zero. Se hanno una patata o un filocchio te la fanno pagare di più solo perché dicono loro è a chilometro zero, ma scusa se è a chilometro zero dovrebbe costare di meno perché ha fatto meno strada, non ti pare? Cosa fai lì? Dai quasi pronto, vai a metterti il pigiama, ti lavi le mani e vieni a tavola. Non ho fame. Non hai cosa? Mi voglio separare. Ti vuoi separare? No, sì 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 perché non riesco più a segnare, non riesco più a far canestro e comunque non ho fame, si potrà non avere fame? Ah capito avete perso stasera. Stavo quasi per dirlo.